Si torna a parlare della nuova Pescara, dopo il referendum di qualche tempo fa l'associazione chiede che ci sia una risposta delle istituzioni al risultato del test referendario. Sì, proprio così. Costituita l'associazione noi abbiamo avuto degli incontri con la persona individuata in regione per affrontare il problema e devo dire da subito che la risposta è stata ottima. Ho parlato in più occasioni con Enzo Del Vecchio, il primo risultato è che è stata chiesta una messa in calendario dell'approvazione del disegno di legge. Quello che noi chiediamo come associazione, premetto che siamo un'associazione della città civile, quindi fatta da tante associazioni che spaziano nei più ampi fronti, associazione assolutamente che non ha scopo di lucro, quello che noi chiediamo è che tutto l'iter venga ultimato entro il 2018, anche perché sono due anni di ritardo da recuperare, e che poi nel 2019, quando si potrà cominciare con le nuove elezioni, si vada a votare per un solo sindaco, quindi una sola città, quindi non tre città con servizi uniti, ma una sola città, come stabilito dal referendum. Andrete incontro però probabilmente anche a delle resistenze che c'erano state anche quando fu proposto questo referendum. Dunque, noi vogliamo sperare di non incontrare alcuna resistenza, perché il referendum è stato chiarissimo, in tutte e tre le città il sì ha vinto, quindi siamo di fronte a un dato di fatto, i cittadini hanno deciso di unire questa città, quindi le resistenze non possono esserci. Se ci saranno, ne dovremo prendere atto, certamente rimarremo molto delusi. Il pronti via del rapporto con le forze politiche è molto positivo, perché abbiamo riscontrato nel centro-destra, nel centro-sinistra, quindi nella maggioranza e nell'opposizione, la volontà di procedere anche speditamente per l'approvazione di questa legge regionale. Poi dovremmo verificare che alle parole facciano seguito i fatti.